Cerignola Carabinieri, buongiorno, sono Fania, sono Fania e chiamo da Cerignola. Vorrei ringraziarvi in particolare tutte le forze dell'ordine di tutta l'Italia per questo salito che ci state dando e che state facendo per noi, girando per tutte le strade dell'Italia e di essere a casa. Vorrei ringraziare tutti i dottori e gli insegnieri che, anche se non è facile, stanno aiutando a far guarire persone che soffrono per qualsiasi malattia, per questo Covid-19. Vorrei dare un piccolo aiuto a quelle persone che lì sono morti loro cari e dargli la pace dell'arrivo nelle loro case. Grazie per aver risposto a questa lettera. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te.